Siamo qui, abbiamo fiato cuore e fantasia Per un'emozione che non va mai via Ali grandi per volare e il coraggio di volere Per non crederci mai a metà Siamo qui, comunque vada e con qualunque tempo Con le braccia al vento e la speranza dentro Mille voci e un solo cuore Tutti insieme a respirare Questa festa di luci e magia Noi con voi, voi con noi E' un sogno che non muore mai Noi con voi, voi con noi Ancora è più che mai Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Trasparenti e forti come il nostro mare Siamo il battito di un cuore Che nessuno può affermare Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Siamo qui, con il cuore azzurro come il nostro cielo Buonasera Acquarica E' una nuova alba, grazie Grazie veramente a tutti Grazie di cuore Carissimi concittadini Nonostante la fatica, la tensione Come noi, tantissimi di voi Credo tutta Acquarica Perché i numeri ci hanno dato ragione Quindi voi tutta, tutta Acquarica E' stata in forte, fortissima tensione insieme a noi Grazie Vedendovi tutti qui Non manca nessuno Rispetto a venerdì sera Siamo veramente tanti Credetemi E' emozionante vedervi tutti E in pochi minuti abbiamo organizzato questo incontro Un incontro che l'ho voluto con forza e con determinazione Nonostante la stanchezza Come ho detto prima La fatica Che non è stata semplice Come noi, tanti di voi Tutti Però io sentivo il dovere Questo momento da sindaco Non più da candidato sindaco Insieme a tutta la squadra 2014-2019 Grazie 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 Sentivo Sentivo il dovere Di ringraziarvi Di ringraziarvi tutti Ma non era una promessa Perché noi Vi cercavamo il voto Noi vi abbiamo cercato il vostro consenso Venerdì sera Ce l'avete dato Ed era nostro dovere Venire qui in piazza Ancora una volta In mezzo a voi Perché noi siamo in mezzo a voi Carissimi concittadini Guardandovi tutti negli occhi Ad uno ad uno Noi vi conosciamo tutti Io credo Che Per la storia di Acquarica Da quanto Mi è stato raccontato Dalle persone più anziane Questo pomeriggio E' la prima volta Che una parte Che una coalizione Raggiunge un obiettivo del genere Una vittoria così schiacciante Non si è mai verificato Nella storia della Repubblica Ma questo Questo l'abbiamo raggiunto L'abbiamo raggiunto Perché voi lo avete voluto Perché voi ci avete dato Questo pregio Di scrivere negli annali Della nostra Acquarica Il raggiungimento di un obiettivo Così forte e così deciso Così determinato Con il vostro voto Avete detto E avete dato Un messaggio chiaro Dato un messaggio chiaro Prima di tutto A noi Che siamo la maggioranza Di governo Come lo avete dato Cinque anni fa Oggi L'avete dato ancora In modo più forte Ci avete fatto capire Che noi Dobbiamo governare Acquarica Insieme a voi Dobbiamo governarla bene Che voi ci state dando Tutta la vostra fiducia Cari concittadini A questa squadra E io Io come capitano Di questa squadra Ho il dovere e l'obbligo Di condurre la nave All'attacco Nel porto Lo devo fare Lo devo fare io Lo dobbiamo fare tutti Lo dobbiamo fare tutti insieme E soprattutto Con tutto il gruppo Di maggioranza Che voi avete dato Il consenso Ma insieme a questi ragazzi Anche ragazzi Che non hanno Che non sono riusciti Ad entrare nel gruppo Di maggioranza Però saranno sempre Vicini a noi E lavoreranno insieme a noi Come dovete lavorare voi Perché la vittoria Di questa sera Non è soltanto La vittoria di questa sera È il risultato Di un lungo cammino Che è iniziato Lo devo dire Ed è iniziato Nel 2009 Insieme a quei ragazzi Ragazzi che non hanno Governato in questi cinque anni Perché l'altra volta Non sono riusciti Ad arrivare Nei primi posti E quindi Sono rimasti fuori Dal consiglio comunale Anche loro hanno dato Il loro contributo Abbiamo vinto Abbiamo governato Oggi tutti questi ragazzi Che non riescono ad entrare Nel gruppo di maggioranza Ma sono insieme a noi E quindi il risultato Di oggi È una sommatoria Del lavoro Del 2009 al 2014 E in questo momento Del 2014-2019 E questo è l'obiettivo Che noi ci poniamo Noi cari concittadini Vogliamo Vogliamo ribadire Non più in campagna elettorale La campagna elettorale È finita Noi vogliamo Lo vogliamo ribadire Questa sera E dire a voi tutti Quello che abbiamo detto Cari concittadini Non era soltanto Una promessa Perché dovevamo Accaparrare il voto Oggi ci mettiamo Ancora una volta La faccia Quando la campagna elettorale È finita Quando abbiamo avuto Il consenso Il consenso del 71% Cari concittadini Il 71% Di coloro che sono andati Sono andati a votare Hanno detto Sì Allora Mi dicono Mi dicono che sta benissimo Bravo Donato Grazie Grazie Anche a Donato Per la fatica Allora Cari concittadini Noi abbiamo raggiunto E voi ci avete dato Una fiducia Una fiducia Di oltre il 70% Questo Non dobbiamo leggerlo Soltanto Dal punto di vista elettorale Ma noi Dobbiamo leggere Anche questo dato E soprattutto Lo dobbiamo leggere Del consenso Perché il 70% Non è soltanto Un consenso elettorale Significa che i cittadini A questa squadra A questo gruppo A questi giovani Vogliono bene E noi lo vogliamo a voi Perché Se non c'è un filo conduttore Se non c'è Un amore reciproco Tra noi e voi E la voglia di andare avanti Questi risultati Non possono essere Solo dei risultati politici O dei risultati amministrativi Questo significa Che tra chi è amministrato Tra questa squadra E voi C'è una forte connessione C'è un forte legame C'è un legame affettivo E noi sentiamo l'obbligo Di doverlo assolvere In tutte le sue forme Noi In questi In quest'ultimo mese Tra i comizi renali L'ultimo comizio in piazza Vi abbiamo Vi abbiamo detto Cari concittadini Quello che abbiamo fatto E cosa vogliamo fare Oggi Io vi posso ribadire E vi posso dire serenamente Che quanto noi Tutti gli impegni Che noi abbiamo presi Non erano degli impegni Solo ai fini elettorali Ma sono e saranno Delle certezze Perché noi Quello che abbiamo detto Noi lo faremo Questa è la rassicurazione Che io voglio dare A voi tutti La voglio dare Con forza La voglio dare Guardandoci in faccia Perché Il nostro Non è mai stato Un programma elettorale Per vincere le elezioni Perché noi sapevamo Già che le elezioni Le avevamo vinte Il 25 Come oggi È stato dimostrato A tutti voi Ma io credo Che il vostro risultato Sia un segnale Forte per noi Ma credo Che sia un segnale Forte Fortissimo Per il gruppo Di minoranza Che Acquarica vuole dare Lo vuole dare seriamente Perché Io mi auguro Che nessuno Del nuovo gruppo Di minoranza Possa pensare Di condurre Cinque anni Di governo Non nel bene Di Acquarica Ma solo ed esclusivamente Per attaccare le persone Io credo Che oggi C'è anche un cambio Generazionale In quelle file E mi auguro Che questi nuovi ragazzi Queste nuove persone Che vengono a sedere Come gruppo di minoranza All'interno del Consiglio Comunale Possano lavorare Possano fare delle proposte Al gruppo di maggioranza E possiamo lavorare Tutti insieme Per il bene Di Acquarica Io mi auguro Questo Perché Se ancora Dovessero Per seguire La stessa strada Che hanno Che hanno lasciata E hanno portato avanti Per cinque anni Credo che fra cinque anni Non avremo il 71% La maggioranza Ma avremo il 100% Perché questo meritano Perché Carissimi concittadini Il popolo di Acquarica Il popolo di Acquarica Gli ha dato Un ruolo Un ruolo ben preciso Quello di stare al gruppo di minoranza Non all'opposizione Sono due cose differenti i termini Minoranza è chi non ha la maggioranza Opposizione è dire no ogni secondo Dire no a tutto Dire no a qualunque cosa la maggioranza propone Perché in quel momento loro Hanno soltanto Un loro tornaconto Vogliono soltanto Destabilizzare la maggioranza E in questo modo Non fanno male a noi Ma fanno male al popolo di Acquarica Allora io mi auguro Che possano Che possano cambiare rotta Perché solo cambiando rotta Possono avere qualche speranza Di poter attraccare quella nave Nel porto Cari concittadini Io me lo auguro Io gli faccio Un grosso in bocca al lupo A tutti e quattro i componenti Del gruppo di minoranza Lo dico con il cuore Ma non lo dico perché Io sono il sindaco Questo gruppo E il gruppo di maggioranza Lo dico nel bene E nell'interesse Dei cittadini di Acquarica E del nobile ruolo E del compito Che la democrazia Ha segnato a loro Questo È di fondamentale importanza In un paese Civile Io mi auguro Di non poter mai assistere A delle diatriple A dei consigli comunali Che sono infuocati Consigli comunali Che hai paura Di poter arrivare Perché venite assalito Ogni momento Per cosa? Per fare soltanto Il nostro dovere Fare cose buone Per il paese Io invece faccio Un appello E dico a questi giovani A questi ragazzi A chi starà nel gruppo Di minoranza Lavoriamo insieme Nel bene di Acquarica Perché questo è il compito Che noi E i cittadini di Acquarica Ci hanno dato Questo significa Essere maturi Politicamente Perché candidarsi È semplice Ma poi in quel ruolo Bisogna calarsi E bisogna calarsi Con intelligenza E soprattutto Con responsabilità Questo È il messaggio Che io questa sera Voglio mandare Lo voglio mandare In una pubblica piazza Non lo voglio dire Nell'aula del consiglio comunale Lo voglio dire In questa piazza Gremita Come era gremita Venerdì sera Perché ognuno di voi Deve essere quel missionario Che porta in giro Questo messaggio E fa capire Agli altri A chi non ci ha votato A tutti Ai componenti Del gruppo di minoranza Che dobbiamo lavorare insieme E dobbiamo lavorare Per Acquarica Carissimi Concittadini I momenti che ci aspettano Come già tutti lo sappiamo Non sono semplici Ma io credo Che la determinazione L'intelligenza La forza Ci farà andare avanti Io vi posso già assicurare Che noi già da questa sera Quando abbiamo già individuato Un certo numero di scarti di voti Noi pensavamo già Che cosa dobbiamo fare E quali erano gli impegni Che noi abbiamo preso Già con voi Perché Noi gli impegni Li portiamo avanti Li portiamo avanti Con Con Seda Infatti già dopo domani Io sarò a Roma Per poter portare a termine Il progetto della scuola De Borghi Lavoreremo Lavoreremo ancora di più È l'esperienza che voi ci avete permesso di fare Di portare avanti In questi anni che abbiamo accumulato Grazie alla determinazione Ma soprattutto permettetelo di dire Grazie alla coesione di questa squadra Perché è la coesione che fa Che dà la forza È la coesione Che ci permette di realizzare i progetti È la coesione Che ci permette di andare avanti Chiarissimi Dunque Questo risultato È un risultato che rimane Credo alla storia Ma mi auguro Che nelle prossime tornate elettorali Sia ancora più forte È ancora più determinante Noi Affronteremo i problemi a 360 gradi Noi non lasceremo nulla Di intentato Noi Saremo quelli che vogliamo realizzare Le opere pubbliche Con i fondi comunitari Siamo quelli Che cercheremo Di attutire L'imposizione fiscale Saremo quelli Che lavoreremo giorno e notte E un invito faccio con tutti Non esitate a chiamarci A fermarci A dire qualunque problema Volarete Ad ognuno di noi Perché noi siamo al vostro cervezzo Perché Quando Quando noi come lista Ci siamo presentati Noi abbiamo chiesto a voi Poche ore fa Il consenso E nel momento in cui Noi abbiamo chiesto il consenso A voi Noi eravamo già Tranquilli Certi e sicuri Se noi chiediamo a voi Il consenso E voi ce lo date Siamo noi Tutti che dobbiamo essere A vostra disposizione E non voi Più a nostra disposizione Il palazzo comunale Il palazzo comunale Non è un palazzo chiuso Deve essere un palazzo aperto Chiunque di voi Deve venire Ci deve fermare Ci deve incontrare Dobbiamo ragionare Dobbiamo parlare Dobbiamo dialogare Perché Questo è il compito Che voi avete dato noi Qualunque idea Qualunque percorso Noi dobbiamo farlo E dobbiamo fare insieme Ma noi certamente Non faremo mai delle scelte Scelte che siano impopolari Contro la volontà del popolo Perché è questa piazza Che l'ho dimostrato E lo dimostra E poi cari concittadini Devo fare ancora un appello Un appello forte a voi tutti Soprattutto ai giovani Ai ragazzi A tutti La politica È bella L'attività amministrativa Ancora più bella Quando si parla di politica Si parla Stare a servizio Della gente Allora io Vorrei Vorrei veramente Con tutto il cuore Che tanti ragazzi Tanti giovani Tante mamme Tante persone Si potessero avvicinare Sempre di più A questa azione Per poter Formare Per poter governare Nel futuro La nostra guarica Questo è un impegno forte Che ho preso In campagna elettorale Ed è un impegno forte Che io ripetisco Ragazzi Ci dovete stare vicini Dobbiamo cominciare Ad amministrare insieme Dobbiamo fare delle scelte Perché parlare è bello Ma scegliere ancora più bello Perché Dal momento in cui si sceglie Bisogna dire L'una o l'altra Allora di fronte a questo Si ha anche la responsabilità Di valutare E di andare Nell'una o nell'altra direzione Cari concittadini Io La nostra guarica Per quello Che ha dimostrato A me Da sindaco E da candidato sindaco Io sono Onorato Non so come veramente Ringraziarvi tutti Vorrei abbracciarvi Ad uno ad uno Vorrei dare l'anima Ad ognuno di voi Per il bene E per l'entusiasmo Che avete dimostrato Nei nostri confronti Ma non solo a me Credo Credo a tutti noi E sentivo l'obbligo Questa sera Di incontrarvi Di incontrarvi tutti E io lancio anche un messaggio A tutta la mia squadra Dicendo E lo abbiamo già dimostrato Chiunque vuole lavorare Può lavorare Indipendentemente Della carica Indipendente dal fatto Che uno è sindaco Che uno è assessore E uno è consigliere Tutti dobbiamo lavorare E dobbiamo lavorare Indipendentemente Della carica E questo è il messaggio Che io lancio A tutta la mia squadra Perché Non si lavora Per la gente Solo perché Si ha un ruolo Perché si ha una carica Ma si lavora Perché si vuole bene La gente Perché la gente Ha voluto bene A tutti voi Noi dobbiamo lavorare Insieme a voi Dobbiamo lavorare Con le associazioni Dobbiamo collaborare Con la parrocchia Dobbiamo lavorare Con la scuola Dobbiamo lavorare Con tutto il tessuto sociale Non ci devono essere Nicchie Che devono rimanere isolate E soprattutto Una cosa dico Io come l'ho fatto Per cinque anni Continuerò a farlo E come l'hanno fatto Tutta l'intera squadra Di maggioranza Per cinque anni Continueranno a fare Nessuno Deve avere paura Perché io Sarò il sindaco Di tutti La mia squadra Sarà gli amministrazioni E il gruppo Di maggioranza Per tutte I cittadini Da acquarica Per chi ci ha votato E perché non ci ha votato Cari concittadini E noi E noi tutti Quando dico tutti Cominciare da noi primi Siamo quelli Che ci avete sostenuto Siete quelli Che avete messo la faccia Ma siamo quelli Che dobbiamo porgere Un'altra guaggia Anche a chi ci non ha votato Perché noi Focolai Perché noi insulti Perché noi Minacce Non le abbiamo mai fatte E non le faremo mai I cittadini E mi rivolgo ancora E mi rivolgo ancora E mi rivolgo anche un appello A quel signore Che è arrivato da italiano Da tanto lontano Per creare Casino Per creare insulti Per creare subbugli Nella nostra acquarica A quel signore Di quella fantomatica tv Televideo Top video Non lo so Noi a quel signore Lanciamo un applauso Perché è bravo Perché è stato Veramente bravo Ha stato È stato Veramente bravo Noi questo Stiamo andando a dire Con un applauso forte Da parte di tutti voi È stato proprio bravo Ci ha fatto vincere Alle grandi elezioni È stato Fatto un miracolo Ieri Ieri sera Nell'edificio Negli occhi Guardandoci e dicendoci Tutto quello che vogliamo Carissimi concittadini Perché la nostra storia è questa Acquarica ha segnato Oggi abbiamo segnato un pezzo di storia importante Della politica di acquarica Della politica di acquarica Ma soprattutto Dell'intelligenza e della cultura di acquarica E quando qualche persona Figlia Di qualche Noto Anche amministratore di acquarica Dice Lo leggo Che purtroppo La democrazia E le elezioni Si vincono Quando si ha il consenso di tanta gente Ma purtroppo Non è gente di qualità E io Quelle accuse Le stengo Ammettente Perché Percagnoso Cari concittadini La piazza Le elezioni La volontà Di 3200 cittadini La rispettata Non si dovrebbero permettere A dire queste cose Mai Mai Perché la democrazia E il pensiero Di ognuno di voi È sovrano È sovrano a tutti E i risultati Che le urne danno Bisogna rispettarli In un paese civile Non solo con acquarica Ma come l'Italia Pertanto Io ribadisco A questi Giovani Di pensare Prima di scrivere Perché Scrivere un messaggio Scrivere un pensiero Su Facebook Su una pagina Significa Parlare a tanta gente Allora dovrebbero Riflettere bene Quando dicono E quando danno Degli ignoranti Al 71% Dei cittadini Di acquarica Che hanno dato Il consenso A questa lista Cari concittadini È vergognoso Tutto questo Ma noi Siamo certi Perdoniamo E diciamo ancora Perdoniamo con serenità E io voglio dire A me Essere arrogante Bella mia Si tranquilla Viaggia con i piedi Per terra Che farai tantissima Tantissima strada Perché questo è il messaggio Che noi Dobbiamo dare A queste persone E quando poi Avrai il consenso Di tanta gente A quel punto Ti puoi confrontare Puoi parlare Ti puoi guardare Negli occhi Perché Se queste parole Questo loro modo Di comportarsi Lo hanno Trasmesso I loro genitori Io credo Che sia una vergogna Di fronte Ad una situazione Del genere Perché bisogna Essere Bisogna essere Coerenti Bisogna essere Corretti E bisogna Soprattutto Rispettare La volontà Della gente Perché Nel momento in cui Si vince Dall'altra parte Sono tutti intelligenti Quando voi Date il consenso A noi Siete tutti Ignoranti Siete gentaglia E io questo Non permetto Non lo permetto Assolutamente Che nessuno Si permetta A dire questo Ai cittadini Di acquarica I cittadini Che noi Rappresentiamo In questo momento Perché acquarica Un paese Per bene Io Carissimi Concittadini Vorrei Ancora una volta Ringraziarvi Ringraziarvi Di quanto voi Avete fatto per noi Ringraziarvi Veramente Con il cuore Abbracciarvi E dire A tutti voi Che ripeto Una parola Una frase importante Non abbiate paura E non abbiamo paura Perché con forza E con determinazione Andremo avanti Ce la faremo E cercheremo Di risolvere Di affrontare I problemi In tutti E nei migliori Dei modi E io credo Che per l'entusiasmo Per la forza Che voi ci date Ci avete dato Fino ad oggi E ci darete Momento Dopo momento Noi Ce la faremo Tutti insieme Allora cari concittadini Io vi ringrazio Vi saluto Veramente Con affetto Tutti quanti Ci vediamo Nei prossimi giorni A fare A trascorrere Una serata Di feste E di ringraziamento Per questa meravigliosa E splendida Vittoria Lo faremo In piazza dell'amicizia Nei prossimi giorni E vi auguro Veramente Tanti Tantissimi Belli giorni A tutti E un grosso E un grande applauso E un grazie A tutti voi E un grazie A tutta questa squadra Grazie a Querica Forza a Querica Forza carissimi Concittadini Noi confine Noi confine Ancora è più che mai Mi dicono Signori mi dicono Un attimo C'è una sorpresa Non lo so cosa hanno combinato Cosa hanno fatto i ragazzi Un attimo Credo che ci sarà qualcosa Da proiettare No Bisogna aspettare qualche minuti Cinque minuti Grazie Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie 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 a tutti No time to lose, but yes we are the champions of the world. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions, we are the champions. No time for losers, because we are the champions. No one knows me about her, no one knows me about her, no one knows me about her. No one knows me about her, no one knows me about her. No one knows me about her, no one knows me about her, no one knows me about her. No one knows me about her, no one knows me about her. No one knows me about her. Good job! Stop! 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 In alto le mani! Oh! ci siamo quasi punto alla rovescia 10-9-9-9-9-9-9-9-9 10-9-9-9-9-9 10-9-9-9-9-9-9-9-9 10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Carlo Guanzolaro e Patrizia Longo Matteo, pardon I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose We are the champions, my friends, and we keep our fighting to the end We are the champions, we are the champions, to attack the losers, yes we are the champions We are the champions, my friends, and we keep our fighting to the end We are the champions, we are the champions Because no time will lose us, because we are the champions E adesso facciamo sentire il calore di cittadini protagonisti! I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a challenge, all of the human race, and I ain't gonna lose We are the champions, my friends, and we keep our fighting to the end We are the champions, we are the champions Carissimi concittadini, beh, innanzitutto un grazie, un grazie a tutti coloro che in così pochissime ore sono riusciti veramente a realizzare qualcosa di fantastico Quindi credo che meritano un applauso di cuore a tutti Veramente grazie Grazie a tutti questi ragazzi, grazie a Parrizia, grazie a Franco, Walter Ma io credo che questo sia un momento per tutti noi, grazie veramente di cuore Ora possiamo... Ora possiamo... Grazie Luigi, grazie, grazie a voi tutti Credo che sia un momento della nostra acquarica Un abbraccio veramente caloroso a tutti Ma tutti ci dobbiamo impegnare Tutti noi che siamo qui presenti Almeno ad assaggiare soltanto anche un piccolo cucchiaino Lo dobbiamo assaggiare tutti Questo è l'impegno che ci dobbiamo prendere Con pazienza ma credo che ce la faremo Ce la faremo tutti Grazie, grazie ragazzi Grazie, possiamo procedere? Dobbiamo tagliare il primo taglio Grazie a tutti Grazie Grazie Forza ragazzi, grazie Ora facciamo di lavorare che noi stiamo assaggiando tutti Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti